Ciao ragazzi! Buona visione! 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 Amico! Buona visione! 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 Figa Mettete il cavaliere con lo lì nero della morte Ok, un secondo Cavaliere, quanto è figa, mamma mia Oddio Ma sembra una scatola Ma mi piace un bot, veramente Però così non mi piace zero, cioè Sembra veramente una scatola così Ma è così, non si può modificare Sì? Si può anche fare così, eh Figo, così sembra un militare Ah, ma perché, ok, è bellissimo Ok, ok, ok Eh, ma per me devi solo un pochino di colorazione Non puoi sbagliare Ma è bellissimo lo stesso Ok, raga, fatta Fatta le mie due macchine Ok, dammi le cose Aspetta, ti invito allo scambio Eh, che figa Madonna La tua macchina Eh, ma non ti ho detto Non ti ricordo Io l'ho trovato la cosa con le squame Sì, me la ricordo Eh, ecco Grazie per la tua gentilità Non lo so perché anche ieri, raga, avevamo fatto così E poi non me l'avevamo, non l'avevamo fatto Ah, si vede che ho schiacciato il rotondo prima Ma un secondo Un secondo, non voglio fare uno scambio Ma ti invito un secondo perché voglio vedere una cosa Ecco, c'è Comunque non è vero Non ce l'ho ancora sbloccabile i puntini Eh, li do domani ad Ale Perché posso sbloccarli tra un giorno, un'ora e sei minuti Raga, per chi non lo sapesse di voi Ho fatto uno scambio con Ale Che io gli do i puntini E lui in cambio mi dà Cioè, me l'ha già dato Mi ha dato questo Questo Poi mi ha dato Questa, vortici, un secondo Mattia, Mattia Poi mi ha dato Sciabola, un secondo, un secondo, un secondo Poi mi ha dato Il razzo, poi mi ha dato Le moco, poi mi ha dato Secondo, raga Vorresti la pelle di serpente Buffera di neve mi ha dato E poi anche un'altra cosa Mi sembra comunque Ok, grazie mille Gabri Scrivi nei commenti Infatti, una traccia di shop e le chiavi Allora, raga Date un commento a questa macchina di Gabri Da 1 a 10 Scrivetelo nei commenti Poi Ok Allora Gestione inventario Allora E scrivi anche E dirgli anche Di scrivere Che partita fare Che partita fare Sì, però Guarda che non siamo In una live Quindi risponderanno Quando potranno Allora Ah, raga Mi ha dato anche questo Bombardiere pazzo Cioè, raga Mi ha dato un botto di roba E poi gli devo dare punti Ah, ma ha dato anche fuochi Fuochi d'artificio Allora, non dirgli Allora Se potete Ecco Chi c'è in questo momento Scriva nei commenti Volete fare Che io ormai Ti facciamo un duello Quando Allora, raga Ti rispondono Quando finisce il video Quando pubblico il video Ora non si sta pubblicando Ok, raga Bellissima La casa scelta dei giocatori Mi piace un botto Aspettate che mi scioppo le chiavi 5 chiavi Rega Torna l'applicazione Ok, raga Abbiamo 5 chiavi Perché non ce l'ho da Ok 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 Mi si era bugato E non mi dava le chiavi Ok Ora ho 5 chiavi E poi in teoria Dovrei riuscire a comprare Anche un'altra Vediamo se riesco Vediamo se riesco Vediamo se riesco Ti scongiuro Veramente Si sono riuscito Riga 6 chiavi Ho 6 chiavi Allora Intanto mi scioppo le 3 casse Scelte del giocatore Che mi ha dato Gabri Raga Io non ce l'avevo Perché le avevo sciopate tutte L'unica cosa che vorrei Gioco E scoppio solare Ti prego Davvero Ti scongiuro Se te lo dai Un verano No Dele ruote Molto rare Fighe Fa vedere come sono Un secondo Ti faccio vedere Quando finisco Di ciopar tutto Allora Ti prego Ti prego Scoppio solare Scoppio In giro Scoppio Ma di nuovo Ah no Sono altre Sono altre Sono altre Sempre molto rare Ti prego Mi manca una sola cassa scelte Ma non sono doppie Non so Ma a te piace Una domanda Si No ecco C'erano doppie C'erano doppie Madonna Ma tre cassa Scelte del giocatore Tre tutte Eurote Ma che cagata La cassa elevazione Non le scioppo Perché tutte le volte Che scioppo Sta merda Di cassa elevazione Mi trovo Bob's rayman Tutte le volte Tutte le volte Veramente E' dannato Quella roba Ok Ok Cassa ferocia Lo puoi dare Quale il doppio Tutto molto raro Linea dritta Ce l'ho già Ma che palle Ma che palle Ma che palle Ti prego Scoppio solare Dammi scoppio solare Ti scongiuro Ti scongiuro Vita Dai Scoppio solare Non ci credo Ho qua triplo Un adesivo Cioè Ti sembra Una cosa normale Ultima chiave Ti scongiuro Voglio sto scoppio solare Ti prego L'unica cosa Che vorrei Io prego Per te Basta che tu Eccomi Sì Cassa scia Ah E' una scia Ok L'hai già aperto Com'è Glitch Si chiama glitch Ah sì E' bellissimo Che palle Però io vorrei Troppo Scoppio solare Oh Fa vedere Le ruote Che hai trovato Doppie Io non supererei Più chiave Se mi dessero Sta merda Di scoppio solare Veramente Dai Non supererei Più chiave Un secondo Potrei vederle Che prego Un secondo Perché se mi piacciono Ho detto Che c'era i doppioni Vorrei averle C'era Aspetta Mi dai qualcosa Però in cambio Eh Ve lo so Un attimo Che In vita Mi lo scambio Un attimo Che devo cancellare Altri predefiniti Comunque Ragazzi Prego Mi puoi far vedere Le ruote Un secondo Non capisci Che non posso Perché Non me le fa Non mi fa creare Altri predefiniti Perché no E' troppi Allora Io raga Direi Di cancellare E' questa Che non serve Un cazzo Poi Questa No Dai Questa La lasciamo Questa pur Cioè Questa Non ha senso Completamente L'ho fatta a caso Però Questa Lasciarla Anche Questa È troppo bella Per toglierla Questa Possiamo Cancellarla Poi Poi Questa pure Poi Fa vedere Altre Cioè Questa Non ha Completamente Senza La cancelliamo Pure Questa Poi Abbiamo Basta Poi le altre Mi piacciono Bene Bene Ne ho cancellate Un po' Fate un po' Di Fulizia Poi però Mi sa che Dovrà farne Altre Ti piace Questa Questa Praticamente Uguale La tua Infatti Ti stavo per dire Mi hai copiato La Non Sembra I colori Sono Quasi 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 Copiati Tante Tante cose No però Questa è uguale Raga Praticamente Ok Raga Niente Fate finta Ti prego Però Posso vedere Adesso Che hai finito Di cancellare Quelle belle liste Anche se Sono belle Ok Un secondo Un secondo Un secondo Aspetta Allora Personalizzazione Delle auto Allora Cose fighe Allora Mettiamo La octane Superman What the fuck Come Superman Ma Ma What the fuck Guarda Oddio Ma è orribile Vabbè Mi piace Lo lascio Cioè Non è male Squadra Blu Non ci sta Un cazzo Questo qua Veramente Vabbè Mettiamo Qui Allora Fibra Di carbonio Legno Linea Dritta Linea Dritta Lucido Metallizzato Metallizzato Perlato Metallo Corroso Metallo Satinato Opaco Perlace Opaco Perlato Semilucido E basta Madonna Fibra Fibra Di carbonio È bellissima Io mi metto Fibra Di carbonio Allora Allora Rossa Perché Superman È rosso Raga Se no mi sbaglio Non mi sbaglio Il contrario Il contrario Lo devi fare L'hai fatto Hai fatto La macchina rossa Il mantello Bianco Un secondo Ti consiglio Ti consiglio Di fare La macchina Tipo Già Perché C'è il mantello Sperlumato Sopra Adesso C'è il mantello Ma vabbè Vuoi fare Quello Rosso Ruote Raga Ah È vero No Trovate Due Ma Wonder Woman Ha le ruote Di Wonder Woman Ma Siamo Seri Ma Sono Quelle Che hai doppio No Fa vedere Quelle Che hai doppio Secondo Queste Ah Le altre Invece Oh Le ruote Di Flash No Vabbè Raga Ma Stiamo Scherzando Stiamo Scherzando Oddio C'è Tutti Questa Io Non ce l'ho Scusa Ma Ma Perché Magari Erano Inclusi In quel Pacchetto Magari Magari Dico Magari Non lo so Non so Non so se mettere le ruote Di Wonder Woman O di Flash Flash Sono più Fini Secondo me C'è Poi ce ne dedicherò Proprio una Per Flash C'è una macchina Ci dedico Per questo Metto Quello Che è bellissimo Quella Scia Quella Che Madonna Glitch Ci sta anche Benissimo Con sta macchina Veramente No No Vabbè Raga C'ho pure Forza Della Velocità Vabbè Questa la metto Poi nella macchina Di Flash Ora mi lascio Qui Allora Supereroi Supereroi Non c'ho Zain di Supereroi Giusto Andiamo Potremmo mettere Il coltello Che però Ci sta malissimo Veramente Sai cosa Ci metti Niente Sta bene Così Copri Il mantello Sbandiere Zero Botti Quando segni Mettiamo L'arancione Sia Classica Ma tu Avevi detto Che la mia Condemazione Serpente Non ti fa Impazzire Però è Però è Bella La macchina Cioè Non ho detto Che è brutta Quella colorazione Ho detto Che non è Bellissimissimissimissimissima Ehm Però è bella Cioè Cioè Mettere Questa cosa Oh Alessio ha detto Che gioca Ma secondo me Non gioca Sì Sì Anche a me Anche a me L'ha detto Allora Ora Ragazzi Possiamo Creare Un'altra Octane La macchina Eh sì Per fare Allora Con Sempre Quello Di Superman Sì Però Muoviti Io vorrei mettere No ma perché Non si può Vorrei mettere La colorazione Serpente Sulla Samurai Ma non posso Non è per La samurai Ma Perché What the fuck In this place Ehm Chi sei Aspetta Non posso Partecipare Perché Sennò Mi cancella La macchina Io Intanto Mi faccio Una partita Paragame Ma Un secondo Oh Io Voglio fare Delle partite Flash Dov'è La ruota Di flash Eccole Bellissime Raga Mi piacciono Un Bottissimo Vabbè Dai Fai una partita Tanto Poi Mi devo Creare Altre Macchine Altre Due Macchine Dove Che hai E basta Sfin Un Flash Eccola Non Si Crosso Che Basta Basta Allora Allora Il mio amico Certo che È È venduto Il mio amico È venduto Cioè Se non è venduto Che cos'è Ok raga Gol Comunque Bravo Bravo Grazie. Non ci voglio credere, non ci voglio credere, non ci voglio credere, c'è quello di acqua, man! E basta però, tutta sta roba. No, allora raga, cambiamo un secondo l'altra. Aspettate, mi metto breakout, così, e mi metto acqua, man. Oddio! Azzurro però, allora, se è acqua, man. E vabbè, ma questi tizi sono un'organizzazione fatta a persona. Madonna, l'hai vista la pelle? Ok. E basta, levati! Oddio! Sì, però, ma mi spingono tutti che andiamo a dire la pelle che non riesco neanche a scriverla. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ce la para. Oh, che cazzo è? Che cazzo è? Oddio, Gabri. Sì, non ti senti? Cosa? No, 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 no. Amico, me lo devi spiegare. Ma l'hai toccata? Ma è un hacker, è un hacker. Ah, ma vaffanculo però, ma che cazzo è? ah dai si però il mio amico ancora non capisce un tubo il mio amico che mi spinge mi fa mancare la porta e si fa fare gol hai rotto le palle no raga così sembra milanista no no mi spingono però questo pubbliché non è milanista ma che sono basta io l'abandono e l'acquisto il mio amico non sa fare un cazzo non sa fare niente no comunque sono più belle le le chakram delle gaiden va bene a me ja nona glee i ja senti basta allora sì ma veramente non si può giocare così però ma mi spingono tutti basta 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 però hanno rotto i coglioni hanno rotto i coglioni sì ma è una cosa di incredibile gabrie hai finito gabrie dimmi quando hai finito se mi spingono ancora una volta io l'acquitto non me ne frega un cazzo no no grandissimo ecco ma io non la riesco neanche vabbè quando finisci dimmelo che almeno che almeno giochiamo ma io mi faccio quest'altra macchina batman no non ci credo vabbè ma ci ma un secondo ma in ogni macchina c'è qualcosa cyborg bene abbiamo scoperto che in ogni macchina c'è un supereroe allora nella x devil c'è wonder woman nella venom c'è flash nella takumi ci sarà nella takumi niente ah perché è una macchina scioppata no questo è perché non c'è adesivi raw dog c'è cyborg paladin c'è batman octane c'è superman questo è impossibile che c'è qualcosa merch lanterna verde hot shot freccia verde ghizmo niente ghizmo non c'è niente breakout aquaman backfire niente niente comunque la maggior parte del cacchio di macchina ma posso dire vaffanculo mamma come mi fanno nervosire veramente doveva essere ma vaffanculo si però paladin botman c'è a questo punto non me l'hai fatto mamma c'è veramente ma cristo santo ma allo allo troppo culo mi fai e lei 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 se me la fa quitto 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 che cazzo suono brutti pezzi è quittata si non le potevo più cazzo quei tizzi ma perchè vado posso andare un secondo ok vai facciamo una partita e poi chiediamo il video che sennò Belin dura 20 ore ci avrò messo mezz'ora per fare 3 macchine 4, 5 quante cazzo sai Gobri però non ti nervosire così è un gioco ho capito ma era una cosa incredibile ma tu non c'eri poi era impossibile parare tutte quelle c'è veramente turbo 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 ok ma chi è che mi spinge dono il nemico si l'avevo capito e vabbè e in 3 partite fa un gol tutto 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 quanto vorrei con l'esplosione e vorrei un'esplosione basta che sia un'esplosione 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 ma chi cazzo sono sti tizzi sono delle persone e vabbè e vabbè basta basta non se lo fanno io come la mente l'hanno fatto ma chi cazzo ma chi cazzo basta tutto vado c'è ho veramente ho abbandonato il party e Gabriele ha abbandonato il gruppo perché perdeva l'ho abbandonato il party perché veramente stava arrivando dei punti stava sclerando troppo raga e spero che questo video vi sia piaciuto a parte il finale e niente ciao raga ciao 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 ciao